Il mio telefono vibra. Chi può essere a quest'ora del mattino? Un messaggio di Clementina. Questo pomeriggio abbiamo bisogno di te. Ti aspettiamo per le nove. Vieni con me, ti mostro il bar e ti spiego cosa fare durante la giornata. Clementina, posso occuparmi io di farne fare il giro del bar e spiegarle tutto quello che c'è da sapere? Andiamo in cucina. Spero tu sia d'accordo. Ho voluto occuparmi io di te perché Clementina può essere una persona un po', diciamo, brusca con le nuove arrivate. Sai, è un po' tipo da frusta. Sì, grazie. Non so mai come comportarmi con lei. Ho l'impressione di diventare più maldestra quando mi guardo. Fa questo affetto a tutti. Non preoccuparti, andrà tutto benissimo. Oddio, ci taglieremo una mano probabilmente. Grazie, mi ha fatto l'occhiolino. Non sei l'unica a cui fa questo effetto. Tutte le altre sono scappate. Per una volta che abbia trovato una camerina motivata, è fuori questione che tu te ne vada. Motivata dopo le lamentele che ha detto fino a poco fa? No. Mi sento moralmente meglio. Cazzo vuol dire? Yun conosce bene Clementina. Dovrei fidarmi di lui. E poi, per darti un po' di coraggio, ecco te la colazione, come promesso. Sì, con quattro ore di ritardo, ma va bene. Cos'è in tazza è morta di calo di zucca. Oddio, gli sta bene. Yun mi ha offerto una cioccolata calda con un cornetto caldo. Uh, grazie. No, una cioccolata con il ghiaccio e il cornetto bollente. Ancante. Parlando con Clementina, mi l'ho dimenticata che Yun voleva offrirmi la colazione. Ho cominciato a divorare il cornetto. Ha continuato a spiegarmi il funzionamento del bar mentre mangiavo. Questa è la cucina. I pentoli e i fornelli non sono abbastanza esplicativi. Per il momento se ne occupa Clementina. È lei che prepara i dolci. Grazie a Dio, se no questa qui dà fuoco o comunque cosa. E se capita che la soviglia non funzioni, è qui che laviamo i piatti. Oh mio Dio. Non voglio commentare tutto ciò. E qui trovi anche quello di cui potrei aver bisogno. Tipo caffè, zucchero, lassativi, tavor. Brioschi. Perché il caffè che fa questa prova a darli giù. Altro che brioschi. A carnecina. L'idraulico liquido. Ti spiego l'organizzazione mattinale. Che non esiste, secondo me, la parola mattinale. Mattiniera esiste. Ma non esiste l'organizzazione mattiniera. L'organizzazione della mattina. Posso precisare solo una cosa? Dov'è il cesso? Non potrò essere qui ogni mattina. Con l'università mi sarà davvero impossibile. Ma hai dato le disponibilità. Lo sanno. Spero. Andate a preoccupare. Anche per me è la stessa cosa. E Clementina lo sa benissimo. Ma quindi, scusami. Tutte le mattine siete occupate. Se sia lei che te. Che cosa? Che cosa sono fatti a fare? Anche per te è la stessa cosa. Sì, anch'io sono stata l'università Ateros. Davvero? Ma non me l'avevi detto. Dove l'hai mai chiesto? Ma non ti ho nemmeno mai incontrato all'università. Perché lavora quando non ci sei tu. E tu non ci sei mai. È normale. È un luogo in mezzo con tantissime persone. Io queste frasi non le riesco a compatire. In realtà, pensavo che tu lavorassi solo al bar. Tu lo gestissi con Clementina? Sì, perché hanno una tresca e quindi Clementina ha fatto socio del bar. Ma con la testa di fagiolo. No, sono anche studente. Ma non mi dispiace per niente. I miei genitori hanno un ristorante. Mi è sempre piaciuto fare il cameriere. Ora non capisco quest'aria così contenta che hai. Ma stiamo scherzando? Ma chi è che va al lavoro con la faccia contenta? Cioè, se fai un bel lavoro e ti fai con l'altro, anche e anche. Ma lavori al bar. Con una russa che ti frutta. Allora cosa? Devo smetterla di parlare in modo inopportuno. Ma che cazzo ha detto? È la bimuva che ha pensato. Ok, come le facciamo continuare questi dialoghi? Allora, lui potrebbe non aver capito cosa ha detto lei. Quindi c'è allora cosa? E lei pensa. Oh, non devo dire questa cosa. Poi ripete la stessa cosa. E in tanto tu hai sprecato di espia. Esatto. Quindi lavorare tutti i giorni con Clementina non deve essere una passeggiata. Ma perché te lo chiedi da solo? Mi piace il mio lavoro. E onestamente dopo un po' ci si abitua. Davvero? Oh, ma la smette con questa conversazione. Stai girando intorno allo stesso argomento. Lei è una rompita. Però lui mi piace fare il suo lavoro, a te no. Fine. Vedrai. Le frustate sulla schiena, vedrai. E che cosa fai all'università? Frequento scienze della comunicazione. Ah sì? In cosa consiste esattamente? Tutto bene? Hai capito tutto, novellina? Puoi coparti ai tavoli fuori. I primi clienti arriveranno a breve. Su, su. Alza culetten. Sono saltata dallo spavento, afferrando l'avambraccio di Yun. Oddio, è viscida. Non l'avevo sentita arrivare. Oh, adesso questo ti incazza perché hai toccato Yun. Clementina sta fissando la mia mano, posata sul braccio di Yun. L'ho tirata indietro immediatamente, come se mi fossi scottata. Non abbiamo finito, le ho appena mostrato la cucina. Ah, per forza avete parlato di tutto o di niente? No, anzi, più di niente che di tutto. Sì, sì, benissimo, ti lascio finire allora. Mi sembra infastidita. Ad ogni modo sai il fatto è tuo, ma non lasciarti silare dalle sue domande e non c'è bisogno di ripetere le cose due volte. Se non capisci, troveremo qualcun altro. Più brutto, possibilmente, di sto cesso. È sempre un piacere sentire parlare di sé alla terza persona. Beh, almeno ti ha messo alla terza persona. Potevano eliminarti dall'equazione. No, al contrario. Erkene impara subito. Non c'è nessun problema. Uè bello. Che cacchio, che bugia che spari. Allo stesso tempo sono sicura che sei un ottimo insegnante, mio piccolo Ion. Chiun che capirebbe con te, mio piccolo? Ora capisco perché non sia un problema per Ion lavorare qui con Clementina. Mi ha lanciato uno sguardo severo ed è scomparsa dietro la porta. Non toccare più Ion, capito? Ok, dove eravamo? Ah, niente, non l'hai detto assolutamente nulla. L'hai detto solo che, ah, se vuoi, quando fai il caffè c'è il caffè e lo zucchero. Che latte. Ah, grazie. Non so fare un piatto di pasta. Sì, allora, trovi tutto quello che hai bisogno qui dentro. Già detto. La mattina se ne imprendi me o Clementina dovrei aprire tu. Quindi dopo ti lasciarò un doppio delle chiavi. Ok. Quindi si fidano a darci delle chiavi. No, no, non mi entri di ladri. Vedo già, ci fanno i rave party dentro. Natalia e le rave party. Quando arrivi, metti fuori i tavolini. Assicurati che non manchi niente e non devi fare altro che aspettare i primi clienti. E quindi dormi sul divano e poi si arriva qualcuno a taglia. Mi sembra tutto abbastanza semplice fino ad ora. Onestamente è la sera che è un po' più complicata. Ma ne parleremo la prossima volta. Ma oggi devi rimanere fino a sera. La porta si è riaperta di scatto una seconda volta. Ok, Erkel. Ho davvero bisogno di una mano. Riesci ad occuparti dei clienti mentre io continuerò con oggi. Yuna si metterà a fare bevande? Sembra che tu non sia occupato, caro Yuna. Yuna non deve rendersi conto di come Clementina si rivolge a lui e come si rivolge a me. Sembra quasi schizofrenica. Disse la pazza. Clementina è scomparsa di nuovo. Perché si comporta così? Sembra quasi che ci sorvegli. Vi sorveglia, infatti. Ok, mi dispiace. Vai, io mi occuperò delle bevande. Per forza, non fa niente questa. Preferirei restare con Yuna, è molto più indulgente di Clementina. Ma devi lavorare, tesoro. Ok, poi, aspettate un attimo. Yuna sarà al bancone a fare le bevande, Clementina sarà in cucina a fare i dolci e tu sarai fuori con i tavoli. Esatto. Quindi ognuno si fa per i cavoli suoi. Non esitare se hai bisogno di aiuto. Sei un dubbio. Grazie, Yuna. Ah sì, solo una cosa. Per aprire il bar la mattina devi assolutamente disattivare l'allarme. Il codice è 28N1. Segnatevelo, signori. Segnatevelo assolutamente. Secondo me, prima o poi ce lo chiederanno. Benissimo. E dove si trova il... È andato via prima che potessi finire la mia domanda. Ok, è il momento di entrare in scena. The show must go! C'è solo una persona fuori. Eppure Clementina sembra sommersa dal lavoro. Perché non devi solo servire i clienti in un bar. Cioè, i dolci non è che puoi dire oh, vorrei una cheesecake. E tu cosa fai? Gli fai una cheesecake dal nulla. Esatto. Tanto vale occuparmi del cliente che aspetta. Meglio non perdere tempo. Sì, perché il cliente non può aspettare. Che discorsi sono? Ma che cameriera sei? Benvenuta al Cosy Beer Café. Che cosa posso fare per lei? Cioè, ha detto, ho la prima cliente. E non l'hai riconosciuta subito? C'è prosciutti al posto degli occhi. Ancora tu? Ma non è possibile. Vado in corso e ci sei tu. Entro in camera e ci sei tu. Vado al bar e ancora una volta ci sei tu. Eh sì, finirò per credere che sia il nostro destino passare la vita assieme. Certo, il destino. Quanto sono fortunata. Mi sa che hai spaccato uno specchio con uno specchio, cara. Non ne sono sicura, ma avrei giurato di aver visto un sorriso attraversare il suo volto. Ma secondo me Yeline non è così antipatica. È il fatto che è la dolcetta che gli ha rotto i coglioni fino al primo istante. Che cosa posso portarti? La tua testa, son vassoio. Prendo una cioccolata calda, grazie. Da portare via. Ho scritto rapidamente l'ordinazione sul block notice che poi ho riposto nella tasca del mio grembiule. Oh, sa scrivere questa volta, bugiolina! E oltre a dover fare attenzione al minimo gesto davanti a Clementina, devo anche servire amorevolmente la mia odiosa coinquilina. Sappi che delle due odiose sei tardi coinquilina, eh? Stavo per andare a passare l'ordinazione a Yon, quando qualcun altro si è seduto al tavolo. Oh mio Dio. Chi sarà mai? Il drogato? Il fattone del professore? La carinissima pria? L'assurda Ciani? Buongiorno, che cosa posso portarle? Sempre la tua testa su un vassoio. Egel, sei tu? Che cosa ci fai qui? Nina, che sorpresa! Nina è cambiata parecchio. Mi ricordo di lei, all'epoca in cui andavo al liceo, lei era ancora alle medie. E ne era innamorata folle di Lissandro. Con la Y, si scrive con la Y in Lissandro. Oh my God, ma che schifo! Ed era gelosissima di tutte quelle ragazze che si avvicinavano troppo a lui. Sono io che sono sorpresa di vederti. Vengo spesso in questo bar, quasi sempre, ma è la prima volta che ti ci vedo. Per forza, ci sta due giorni qua dentro noi. Sì, è il mio primo giorno di lavoro. È normale che tu non mi abbia visto prima. Ah sì, d'accordo. Pensavo che fosse andata via dalla città per sempre. Sono tutti più o meno scomparsi. Anche Lissandro è andato via. Ditelo un'altra volta che è andato via. Ditelo un'altra volta. Sì, parecchi se ne sono andati. Tu sei al Dolce Amoris? Sì, all'ultimo anno. A proposito, oggi è mercoledì. Non hai lezione questa mattina? Sì, ma non mi andava troppo di andare a scuola questa mattina. Ogni tanto? Fai bene a farlo, non c'è niente di male. Non avrei mai pensato di sentirti dire una cosa simile. Non ho voglia di mentirti, ma comunque non esagerare, d'accordo? Non preoccuparti per me. Ok, quello che... Penso andare a prenderla io, la cioccolata calda, se sei troppo occupata. Sì, mi faciliterebbe le cose. Madonna mia. Sì, ma che cazzo del posto è? Ci lavori tu lì, demente. Andai. Avrei preferito rispondere in questo modo, ma non so cosa sia più difficile, sopportare Yelin o subire le ire di Clementina. Cosa ti porto, Nina? Ma è Yelin. Vabbè, abbiamo Yelin che ci guarda male nel mentre. Sì, scusa, mi sto lavorando. Arrivo subito. Complimenti per i dialoghi e coerenti. Proprio come la protagonista. Un caffè, per favore. Un caffè? Perché? Qual è il problema? No, no, niente. Te lo porto subito. L'ultima volta che ho visto Nina era ancora una bambina. Il tempo passa troppo velocemente. Viene facendo questo tipo di pensieri che ho pensato di avere cent'anni. Fantastico. Ciao. 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 Grazie a tutti